E' opportuno ed urgente aprire una discussione sui rincari dell'energia che gravano sulle famiglie. Per questa ragione abbiamo richiesto, assieme ai colleghi di minoranza Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Prospettive Lucane, un consiglio straordinario sul tema. Lo dichiarano i consiglieri del Partito Democratico Cifarelli e Pittella, per i quali non si può ignorare quanto di grave sta accadendo, ma è doveroso rintracciare ogni soluzione possibile per evitare di mettere in ginocchio bilanci familiari e generare instabilità diffusa nell'imprenditoria lucana. La regione potrebbe, dicono, emettere futures sulle future vendite di gasso sulle stesse royalties e rimborsare gli aumenti in bolletta delle imprese a fronte di piani di contenimento dei consumi energetici interni e con bandi a sportello rapidamente implementabili, meccanismo competitivo che bypasserebbe senza alcuna obiezione l'accusa di aiuto di Stato. Se questo vale per l'energia, concludono, è altresì importante la discussione sui meccanismi del 110% che rischiano di far sfumare le opportunità in campo.